amici di maracanà ben ritrovati in diretta dal visente calderon la juve col pigiama non ha fatto una bella figura in champions ma è la prassi 3 2 1 maestro buonasera tutti i teoi spettatori di teo vibra cassana del nostro comprensori e tutto il popolo sportivo che ci seguo buonasera ma allora andiamo subito con ordine diciamo le cose come stanno questa juve ha deluso ma non direi di usi perché si ha fatto sorprendere alle partite per avere il pareggio no sacco ha detto in questi partiti bisogna andare all'attacco quindi c'è un errore ma quelle che ci ha salvati che siamo tutti nella stessa classifica tutti in tre punti quindi vediamo bene poi prossimamente allora maestro ci sono state delle pause perché abbiamo avuto degli impegni e naturalmente comunque abbiamo seguito sempre con grande attenzione tutte le vicende politiche economiche sociali e sportive mancano le sue massime tanti telespettatori le chiedono possiamo dare un piccolo assaggio ma le mie massime sono sempre diciamo chi li condivide chi no ma io adesso con i miei occhiali ci vorrebbero gli occhiali come ho fatto per i denti prossimamente poi facciamo per gli occhiali questo non lo esiste un solo lusso ed è quelle dei rapporti umani per prima poi diciamo nel nella nella nostra trasmissione lei è un provocatore deve essere di me il conduttore il presentatore il produttore ma mi permette di dire lo devono sapere tutti i telespettatori un'amica ambigua ti dà l'ombrello quando c'è il sole e quando piove ti deve coprire da solo allora noi a questo punto noi di amici ambigui ne abbiamo ne abbiamo tanti il primo l'ingegnere miraglia però tranquillizziamo i telespettatori presto ci sarà una puntata allargata e si parlerà di juventus si parlerà di tante cose la canzone lei mi sta vabbè 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 è arrivato un email sul suo blackberry e si parla di francesco de vincendi la zingata che tra l'altro si è sposato ed è andato a new york in viaggio di nozze ed è anche portato una valigia di soldi che ha mandato clinton direttamente a masto salandrino un saluto agli interisti ma gli auguri più bella la zingata auguri davvero cuore perché giovane larga e giovane quello ma come tifoseria che lui è un grande interisti che mi ha sempre provocato io invece comincio a dare la risposta con le canzone come voi come sapete rincit in cielo a tutti stinderista casta non scudet ancora e nors su una catena is scudet allora allora maestro diciamoci la verità a questo punto è l'inter con zeman l'altro giorno ha passato una giornataccia mazzarri non ha mai ispirato tanta fiducia a masto salandrino e il napoli con rafa benitez ma quella che sorprende il napolo perché con benitez che il tuo lidero come zeman ma zeman nell'altra volta si è convertito ha detto che la juve e la squadra che gli è piaciuto in più nel senso del gioco non è mai fatto il complimento a benitez benitez sta diventando adesso quello che sta sorprendendo perché effettivamente quel 4-3-2 che lui espone che quei dati non c'è quel materiale di poter affrontare questo tipo di gioco e sta pagando le conseguenze l'abbiamo visto con tanti squadretti provinciali quindi lei ha già un allarme sta facendo i suoi errori credete Clinton, Hollande, maestro Salandrino è a busta paga di questi personaggi ma adesso io ho tante richieste perché nel senso che io sono l'avvocato come mi considerate del PIL lo posso dire davveramente difendo soltanto il fattore PIL il resto non mi interessa quindi sono un pianavista del PIL e diciamo che sto avendo tante di quelle telefonate che adesso si incominciano a preparare tante perché stanno facendo come un modello una moda che sta andando in giro da Grindo, Berlusconi, Hollande poi quell'altro che mi sfugge il nome quindi adesso si incominciano quell'altro della serie A-B tutti i sindichi, i sindichetti che vogliono difendersi perché effettivamente stanno prendendo contatto anche loro con il PIL Matteo Renzi? Matteo Renzi guarda l'altra volta mi avevamo un po' deluso va troppi allunghi quei lanci allunghi mille giorni no 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 lì bisogna darsi anche una mossa perché la gente ci crede in lui ma questi tipi allunghi deve fare più il lavoro in corso diciamo ai fini e se no c'è il grillo che lo aspetta al traguardo noi naturalmente dobbiamo anche parlare di quello che è un aspetto importantissimo della nostra trasmissione ossia gli aneddoti ma arriveranno nello studio con la trasmissione allargata però diciamoci la verità è sempre importante anche l'alimentazione è vero che lei sono 15 giorni che mangia solo ed esclusivamente riso in bianco? oh 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 questa adesso è una provocazione io l'ho detto un'altra volta questo quando un uomo trova un piatto di riso e un altro un piatto di maccherone quello del piatto di riso è un uomo morto per primo poi ritornando per dire che stanno come stanno le cose che io mi ho fatto questo nuovo a livello giudisprudenziale solo che in questo studio io sembro diciamo mi sono sempre aggiornato per il PIL e ci sono delle masse che si dice allora diciamo lo scrittore è l'ingegnere dell'anima per primo il poete è l'architette dell'anima i veri avvocati penaviste è il chirurgo dell'anima arrivederci grazie Grazie.